Buongiorno a tutti, bentornati, bentrovati. Cominciamo insieme questa puntata di prima di tutto, di martedì 25 marzo. Torna in nostra compagnia Gian Maria De Paulis con la sua rubrica tutta dedicata al mondo dell'informatica. Poi ci occuperemo anche di imprese, di difficoltà economiche di questo periodo, ma forse con qualche spiraglio di luce all'orizzonte. E non solo, parleremo anche della città di Teramo, della zona di Cartec in particolare. Questo è tanto altro nella puntata di oggi, ma adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo e poi torniamo naturalmente con la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo In provincia di Teramo al mattino nuvoloso con graduale compattazione della copertura. Nel pomeriggio peggioramento del tempo con precipitazioni in arrivo a partire dai settori interni, in estensione alle aree collinari e litorane e entrosera. Neve dai 1300-1400 metri, miglioramento in nottata, temperature stazionarie sempre al di sotto delle medie stagionali, massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 12 e 15 gradi sulle coste, venti deboli o moderati occidentali in montagna, deboli o moderati sudorientali sui litorali, mare poco mosso. Cominciamo subito la rassegna stampa, partendo come consuetudine dal quotidiano al centro, diamo subito uno sguardo alla prima pagina ZTL, arrivano le telecamere, stiamo a Teramo, le telecamere sorveglieranno gli accessi al posto delle barriere. E poi una fotonotizia, il morto padre Fernando, il frate tifoso del Giulianova, oggi funerali a San Flaviano. Avezzano, calcio e tangenti, arrestato ex parlamentare a Teramo, portati dalla piena, ponte a catena a rischio per i tronchi. Ospedale Mazzini, nuova tecnica per la chirurgia al seno. Queste ed altre notizie che andremo ad approfondire tra pochissimo, partendo dalla pagina dedicata all'Abruzzo. In primo piano, consiglieri regionali, così il governo dimezza gli stipendi. Secondo il progetto di riforma, le indennità non potranno superare quella del sindaco dell'Aquila. E ancora, accordo Fastweb, la regione implementa la banda larga, sostegno alle filiere agricoltura, nuovo bando sui prodotti. Ancora, per quanto riguarda la regione, fabbriche verde col combustibile CSS, accordo tra regione e consorzio Eco Carbon, la DECO SPA, nel circolo virtuoso dei rifiuti. Ma andiamo avanti, dopo l'inserto dedicato al lavoro, siamo ancora a parlare di notizie che ci riguardano da vicino. In questo caso si parla di università e tirocini, borse di studio e contratti di ricerca nei paesi dell'Unione Europea, le opportunità offerte dall'OSCE e dal Parlamento Europeo, turismo sportivo, benessere e seminari in Albania. E ancora, programma di formazione, giovani talenti per FIAT, formazione con unicredit, l'elenco delle posizioni aperte. Andiamo avanti e proseguiamo con la pagina dedicata a Teramo. L'apertura è dedicata alla buona sanità. Chirurgia plastica al seno, Teramo fa scuola in Italia. I medici del Mazzini inventano una nuova tecnica in ambito oncologico. Torresini afferma, siamo l'unico ospedalino abruzzo a trattare gli ex obesi. Il percorso senologico in 5 anni dà 300 a 5.100 visite. Brucchi, la donna, è al centro. Ricordiamo che il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, è anche appunto responsabile del centro di senologia. Ed ecco la notizia che abbiamo visto in prima pagina. ZTL, via le barriere, in centro, si entrerà con le telecamere. Il Ministero dei Trasporti ha dato l'autorizzazione. Si è raggiunto un altro varco tra Via Veneto e Piazza Marteri. Novità per chi va in farmacia. Il farmacista comunicherà ai vigili la targa dei clienti che così potranno entrare nel centro storico senza prendere la multa. Interessante novità. Di Pasquale, Brucchi ha troppi incarichi. Il sindaco infatti è stato confermato nel comitato della ASL. La candidata del PD polemizza sulla nomina coordinatore provinciale di Forza Italia. Troppi incarichi, afferma Manola Di Pasquale. E quindi, ecco, avrebbe poco tempo per svolgere le mansioni di un sindaco. E intanto, nuovo comitato di quartiere, Villa Pavone, Colle Atterrato, Persia, presidente. Proseguiamo con le questioni che riguardano la Tercas. La FIVA Cisle chiede l'intervento delle due fondazioni. Dopo la mancata fusione delle quattro casse di risparmio, evitiamo un altro fallimento per l'economia abruzzese. Questa è la richiesta appunto della Cisle. Ponte a catena, pericolo tronchi. L'associazione Teramo Vivi Città lancia l'allarme. Fanno pressione sui pilastri. Andiamo avanti e proseguiamo. Con il quotidiano il centro. Siamo ancora a Teramo. False revisioni, accuse confermate. Conclusa l'indagine dopo il sequestro di 500 bus Arpa e la sospensione del direttore della motorizzazione. Gomme tagliate a piano solare. Vandali prendono di mira. 15 automobili in sosta, indaga la polizia. E poi, giovane pizzaiolo, campione in Germania, con un piatto dedicato al Papa. A solo 23 anni, Luca Sposetti, che vediamo nella foto, ma appunto si è distinto quale pizzaiolo. Ancora, per quanto riguarda la città di Teramo, presi d'assalto i giardini del Castello della Monica, giornate del FAI, molti delusi perché l'edificio era chiuso di Carlo e la dimostrazione è che bisogna finire il restauro. E le foto, per l'appunto, testimoniano la presenza di tanti visitatori. Pulita la spiaggia del Cerrano, fra Pineto e Silvi, in 200 raccolgono sacchi di rifiuti, salvato il nido di un fratino. E poi, ancora, una notizia terribile. Muore nel viaggio fra due ospedali. A Giulianova non c'era posto, viene portata a Santomero e scatta l'inchiesta della procura. Naturalmente si farà chiarezza sul caso. Sant'Egidio alla vibrata, corsa a quattro per il sindaco. C'è anche Talvacchia e ancora prima pietra dello chalet per disabili. Siamo a Martinsicuro. Dopo 14 anni di battaglie, l'Anfas dà il via alla costruzione. E' morto padre Fernando, il frate tifoso. Lo vediamo in queste foto. Padre Fernando, tifosissimo del Giulianova, il popolarissimo religioso stroncato da un infarto. A fine messa diceva sempre, forza Giulianova. E oggi i funerali. La Croce Rossa, il salvamento in regola. Il presidente replica l'accusa dei grillini di far concorrenza sleale alle società private. Un'associazione per ricordare Lorenzo, il giovane morto in un incidente stradale, a Giulianova e mentre a Mosciano, Cristina Cianella e il candidato sindaco. Andiamo avanti. Roseto rende onore al parroco tanto amato. Una delegazione con a capo il sindaco ai funerali di Don Angelo a Lumezzane, nel Bresciano. Domani messa nella parrocchia che aveva guidato per 20 anni. Flash mob per l'asilo obbligatorio. Pineto e insegnanti genitori ballano insieme per chiedere una nuova legge. Ad Atri, il PD all'attacco sulla Tares delibera e aumenti illegittimi. E diamo uno sguardo adesso alle altre province. Partendo da Pescara, violenza sulle donne, maltrattamenti, una denuncia al giorno. Negli ultimi cinque mesi, 144 vittime di abusi hanno chiesto aiuto al pronto soccorso. La ASL cancella ticket e code. Ancora, a Montesilvano, verso il voto, il Movimento 5 Stelle strizza l'occhio agli albergatori. Nuove politiche del turismo tra le priorità amministrative dei pentastellati che attaccano di mattia l'ex sindaco a Deluso. All'Aquila, voto di scambio. Cialente scagionato, il giudice Biglia ha disposto l'archiviazione anche a carico di Verini e dei segretari regionali Paolucci, PD e Toto, ex Fli. Sport e tribunali, crack, vecchia l'Aquila Calcio, pene ridotte in appello. Proseguiamo adesso ad Avezzano. La maxinchiesta, calcio e fondi neri, arrestato Angeloni, quando l'ex presidente dell'Avezzano portò 4 milioni nei borsoni dei giocatori incastrato dall'imprenditore Stornelli. E poi, a Chieti, l'operaio scomparso dalò aperta all'inchiesta per omicidio. La procura riparte dopo 16 anni. Dietro il giallo, due piste su cui indagare l'usura e una violenta lite passionale. A Lanciano adesso, la città in balia delle auto, ognuno fa come vuole. L'associazione Nuovo Senso Civico bacchetta l'amministrazione comunale. vuole opere costose, di dubbia realizzazione, ma non controlla l'ordinario. E andiamo avanti con, appunto, il quotidiano Il Centro, uno sguardo alla pagina della cultura. L'Aquila dai grandi festival Ecco e Sai, rassegna di cinema d'autore e ancora, tra i vari appuntamenti, ricordiamo quello a Teramo, Stella Russa al pianoforte, questa sera alle 21 nella sala San Carlo, nell'ambito della stagione dei concerti del primo Riccitelli. E ancora a Chieti, presentazioni a Palazzo De Maio, i papi della rinuncia, oggi a Chieti il saggio del professor Durbano. E andiamo adesso alle pagine dedicate allo sport serie B. Cosmi cambia, Ecco, Balzano e Bovo, mentre, nell'altra pagina, Facci vi racconto quando volevo, Cerse al Latina. Clamosa rivelazione del DS Nerazzurro, ex Teramo, era lui sostituto di Auteri, recupera l'ex Jonatas. Ancora, Lanciano Crotone, sfida con vista sulla serie A, serie B, rossoneri puntano al successo e a riprendersi il secondo posto, il patron Maio e Vrenna, rivali anche nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Testa e De Sosa, ecco gli eroi dell'Aquila, prima divisione, il portiere para tutto, il bomber trascina rosso-bluo al quarto posto, possiamo ancora migliorarci, mentre Chieti urla contro gli arbitri, ora basta con il cosenza ennesimo rigore inventato e la società si infuria, Daleno Rescinde. Teramo impicchiata alla pancia piena, Biancorossi vicini all'accesso matematico della Lega Pro unica, domenica si potrebbe già far festa. E poi per quanto riguarda l'eccellenza, Vezzano resta di Loreto, il presidente Paris rinuncia al ribaltone, ma dalla squadra pretendo di più a ferma. Poi calcio giovanile, Torrese e Vastomarina, cammino da Big, la regina delle junioris d'Elite. Per quanto riguarda il basket, Chieti e Roseto serve il pieno di punti per andare ai play-off, si complica il cammino delle abruzzesi a quattro gare dalla fine e la Proger deve ancora osservare un turno di riposo. E' tutto per il quotidiano, il centro, adesso diamo uno sguardo al quotidiano, il messaggero, partendo dalla prima pagina, siamo chiaramente a parlare dell'Abruzzo, fondi neri, bufera, bis, su Angeloni, fin meccanica e sistri, torno ai domiciliari, l'ex parlamentare, dirigente sportivo marsicano, i magistrati, i soldi delle tangenti, nelle borse del calcio, l'avvocato Milo, e a pezzi, giudice. Sanità, reparto pieno, muore durante il trasferimento, la procura di Taramo indaga, su un decesso in ambulanza, tra Giulianova e Santomero. Poi, una fotonotizia, Pescara spaccata in centro, commercio in fibrillazione, raid da Gaeta, e l'anticamera del Pizzo. Andiamo avanti, andiamo a proseguire, con la rassegna stampa, centro-destra, il caso Pescara, e l'ipotesi di un effetto domino, nuove sollecitazioni, dopo l'apparizione di Defanis, da Giletti. Aeroporto, chiedo scusa, di Pescara, tra Saga e Ryanair, rinnovo fino al 2016. Regione, sedi in rete con la fibra, accordo con Fastop, per la velocitazione, di tutti i collegamenti. E poi, il bando, fondi PSR agli agricoltori, che innovano o investono. Andiamo avanti, con il quotidiano del messaggero, ci soffermiamo, sulla pagina dedicata all'Aquila, l'Aquila città infelice, ma i giovani reagiscono. Twitter certifica la sofferenza legata al post-terremoto. Poi il caso, droga dei domiciliari agli arresti in carcere. Carp e la fidanzata, scoperti con marijuana, si baciano in aula. non ci fu voto di scambio, archiviazione per Cialente, prosciolti anche Toto e Paolucci, per l'accordo in vista del ballottaggio. Angeloni, tangenti, nelle borse da calcio, inchiesta sul Sistri, arresto bis, per l'imprenditore di Aielli. E poi, siamo a Sulmona, incidente in Puglia, finiscono in ospedale, cinque agenti penitenziari, e un detenuto. La pagina di Pescara, vogliono dirci che sono i più forti, il timore di una volontà di dominio, della mala, e l'anticamera del pizzo, la spaccata compiuta all'ora del passeggio, e non in piena notte, come nei precedenti casi, lancia un messaggio inquietante ai negozianti. Paziente morta dopo un intervento chirurgico condannato, un anno e mezzo al ginecologo Orazio Lotti, e ancora una star pescarese nel cast di noi quattro, la prima volta sul set dell'attrice teatrale Lucrezia Guidone. La scalinata dell'acerbo rivive, grazie all'artistico, gli studenti all'opera per un grande murale, ai piedi dell'edificio. Li vediamo nella foto, gli studenti pittori dell'artistico, al lato i liceali dello Spaventa. Andiamo avanti, siamo adesso alla pagina di Chieti, Salma ferma in obitorio da 71 giorni, e giallo. L'avvocatessa non vuole far seppellire la sorella, morta lo scorso gennaio. A Teneo Cus si va verso la fine della convenzione, poi gli studenti alla scoperta delle ricette della storia. Da teat a Chieti, i musei raccontano laboratorio di 13 classi. Ospedale Renzetti a Lanciano, tolto l'Eternet via la bonifica, sul tetto della cappella non ci sono più rattoppi e onduline. E poi proseguiamo con la pagina di Teramo. Tiepida la risposta all'appello di Nuzzo, aumento di capitale per la Cisle, fondamentali le due fondazioni. Dunque tiene sempre banco il caso Tercas, e poi si torna a parlare anche del caso Robimarga. Per Robimarga arrivano altri guai, presentato appello sull'ex assessore, anche l'ordine dei medici ha avviato il procedimento disciplinare che potrebbe portare alla sospensione dall'albo. Muore nel trasferimento tra due ospedali e giallo, era arrivata in fin di vita Giulianova, la procura apre un'inchiesta. Ancora false revisioni degli autobus, confermate tutte le accuse. A Cerrano, torre del Cerrano, barriera Arloa Simarina, condanna della Corte dei Conti. E adesso a Giulianova, blizzo dei vigili nei parchi via e senza tetto. Qualcuno si era intrufolato, anche nella vecchia sede della Banca Popolare. Giulianova, soccorso a mare, polemica tra Croce Rossa e Cinque Stelle, arenile e pulito dai detenuti, successo dell'iniziativa ad Alba Adriatica. Mentre a Tortoreto, liste candidati sindaci nel caos, ed è morto il padre spirituale di Allegri, ovvero padre Fernando Tribuiani. E andiamo avanti, siamo adesso alle pagine dedicate allo sport. Pescara ha la prova degli ex, nel turno infrasettimanale i biancazzurri di Scena Latina. Difficile dire se la mia squadra ha personalità oppure no. Cosmi, dobbiamo reagire subito, ma emergenza in difesa. Per ora, spiega, ho visto troppi alte e bassi anche nella stessa partita. Ancora, testa favolare l'Aquila, playoff quasi fatta, ma proseguiamo e troviamo il Lanciano. Lanciano vince per sognare là. Al Biondi arriva il Crotone per uno scontro diretto importante in chiave playoff, ma un successo potrebbe consentire a Rossaneri di riprendersi il secondo posto. Scipioni sul Teramo, critiche immeritate, siamo dispiaciuti, ma il nostro obiettivo ormai è a un passo, mentre De Patre e Bellia dicono Chieti devi crederci. Per il Giulia Nova all'Enero gratis, Monticciolo non percepirà compensi fino a fine stagione. Ne hanno offerto una chance che vale più di ogni stipendio, afferma. San Nicolò per la D può bastare un punto e chissà che appunto domenica prossima possa festeggiare. In coda duello Amiternina a Curi e ora rischia anche il Sulmona, questo in Serie D. Ed è tutto, anche per il quotidiano, il messaggero. Adesso linea alla regia, poi torniamo con il quotidiano La Città. Riprendiamo con il quotidiano La Città uno sguardo alla prima pagina. Muore in cerca di un letto d'ospedale. Niente posti a Giulia Nova, 43enne stroncata da un infarto durante il trasferimento a Sant'Omero. E poi si parla di un'altra notte brava in centro a Teramo, aspettando le telecamere Bengala e Minacce in piazza. Ancora il Castello della Monica fa il pienone, boom di presenze alle giornate di primavera del FAI, mentre la politica a Montorio ripartiamo da quanto di buono è stato già fatto, afferma di Donato Antonio, il candidato per l'appunto del Partito Democratico. Il lutto, addio a padre Fernando Tribuiani, il frate ultra del Giulia Nova, oggi i funerali. Mandiamo adesso la pagina regionale, Abruzzo, Fondi Neri, in fin meccanica arrestato, Vincenzo, Angeloni, chiesta su rifiuti, altri tre domiciliari con l'ex deputato. Droghe aumentano, quelle leggere. I dati del Ministero, nel 2013 è diminuto il consumo di eroina e cocaina in Abruzzo, numeri preoccupanti, ma la maglia nera va a Liguria e Toscana. Ancora muore nella corsa verso un posto in ospedale, tortoretana di 43 anni, stroncata da un infarto nel trasferimento tra Giulia Nova e Santomero. La procura ha aperto un fascicolo e fatto eseguire l'autopsia per accertare se ci siano responsabilità. Il gota della politica e dell'impresa e funerali di Salvatore Di Paolo celebrati a Pescara dal Vescovo di Teramo Michele Seccia e funerali dell'imprenditore illuminato. La Cisla approva il piano dei pugliesi di Banca Popolare di Bari. Se condotta bene, l'operazione porterà la nascita di un polo bancario interregionale di alto profilo. Elezioni. Ripartiamo dai successi raggiunti dal sindaco di Giambattista, Angelo Di Totonato Antonio, candidato sindaco del Partito Democratico Montoriese, traccia il suo programma. E a proposito di candidature, centrodestra verso la quadra, giochi ancora aperti sui nodi chiave di Giulia Nova, Tortoreto e Silvi. Domani nuova riunione con i big del tavolo politico provinciale. e poi la risposta, nessun taglio drastico ai servizi sociali del Vomano. Il presidente di Unione dei Comuni, Paolo Paolini, rassicura i sindacati. Ed ecco la notizia che abbiamo visto nella prima pagina. Siamo a Teramo, Bengala in minaccia nelle notti brave. In Piazza Marte, di un altro sabato sera, da antologia per la Movida. In questa foto si può ben vedere il Bengala acceso e trascinato in piazza da due ragazzi in motorino. La città che non va, il degrado della domenica mattina in diretta su Facebook. Se questo è il centro, pensa alla periferia, raccoglie e segnala i problemi. Ancora politiche, social network e pomante il più 2.0. Facebook e Twitter, il candidato civico attivissimo, che odia ogni presente ma col trucco, grillini da rivedere. In qualche modo insomma si fa un po' il punto della situazione con la presenza su Facebook e su Twitter dei vari appunto candidati per questa tornata elettorale. Infrastrutture del futuro, internet a banda larga, che oggi entro l'anno abbatteremo il digital divide, regione Abruzzo e Fastweb firmano l'accordo per l'anello in fibra ottica tra 1 e 8 gigabyte. Provincia, ad ECO, la provincia scrive all'Arta, la vicenda della fonderia finisce sul tavolo delle relazioni industriali, Tortoreto, Sanità, Lavoro e Turismo, le parole d'ordine di Pepe, anche Luciano D'Alfonso alla convention del candidato vibratiano alla regione. E' morto il frate ultra del Giulianova, Fernando Tribuiani, cappellano dell'ospedale guida dei Giallorossi e ancora politica centrodestra a Brocchiantelli verso il disgelo, il nome più gettonato è ancora quello di Laura Ciafardoni di Progresso Giuliese. Ambulanti, lavorano solo gli autorizzati, abusivismo, niente più mercatini improvvisati sul lungomare di Roseto, giovedì si discuterà di commercio ma anche di punterolo rosso in associazione dei nonni vigile. Andiamo avanti, cultura, Marco Esposito vince il premio Il Molinello con il vaso di Pandora il giovane scrittore si aggiudica il primo posto al concorso letterario. L'aria che tira, smettiamola di dare corda ai film è mediocre, la commedia all'italiana è morta e la grande bellezza non meritava l'Oscar. Parola del critico Angelo Moscariello. Un brindisi per il Desartes Caffè con Cucina. Ieri l'inaugurazione tanta gente è arrivata come potete ben vedere nel nuovo locale e ancora si parla adesso del Castello della Monica che fa il pienone nell'ambito delle giornate fai di primavera migliaia i visitatori. Lo sport Teramo col Fiatone verso il traguardo ad aprile è arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate ma le prossime due gare in casa possono regalare la Lega Pro unica Biancorossi scarica a livello fisico e mentale per poter ambire al primo posto. E intanto Giulianova piange Padre Fernando domenica in campo con lutto al braccio e certo non poteva essere diversamente per ricordare questo grande tifoso. Atletica Macchia e campione d'Italia di corsa campestre il talento della Bruni Vomano conquista il titolo tricolore Wisp nella categoria allievi e poi box la promessa Marco Balducci vince il torneo Puglia Abruzzo. E termina qui la nostra rassegna stampa adesso brevissima pausa pubblicitaria poi torniamo insieme con Gian Maria De Paolis. Eccoci qua nuovamente insieme in compagnia del nostro esperto informatico Gian Maria De Paolis Buongiorno Maria bentornato e bentrovato Buongiorno a tutto il pubblico Come va? Bene Bene Come va? Bene Soprannominata Whatsapp Serena Whatsapp vi prego Perché Whatsapp? Perché ha sviluppato se mette la mano così vedrete l'indice 10 cm più lungo perché col ditino ma non dire sciocchezza è di una velocità incredibile potrebbe fare delle gare con i ragazzini di 8 anni che già hanno le dita sviluppate per quanto riguarda l'utilizzo di smartphone guardate che Serena è di una velocità ma sai che si ragionava e io l'ho conosciuta che andava con la zappa informatica che era un tipico attrezzo che serviva per a malapena stampare co-word oggi è diventata esagerata prima si parlava dei sindaci social 2.0 Serena ormai è social 3.0 finiscila sai che tempo fa si pensava aspetta la vera camera non la vediamo nascosta c'è il cellulare pronto subito appena cambia ma la smetti allora tutti noi abbiamo sempre il cellulare a portata di mano adesso tu si ride e ci scherzi ma è la verità ma non per guardate come da una parvenza di serio quello che stai dicendo ma non per le motivazioni che tu reputi opportuno dovesse accadere un qualcosa eccetera ma è vero è così cioè abbiamo una regia connessa a tutto il mondo però il cellulare ce l'ha nascosto ma va va non ci perdo tempo a far spiegare se un occhio vedete un pochino che si muove strano cercherò di capire farò un segnale tipo così significa che sta whatsappando da qualche parte ma non dire sciorchezze non è mai successo finiscila allora allora cominciamo si è meglio procedi pure prego ecco infatti subito appena arriviamo la prima cattiveria che dice Serena dice guarda questo nuovo cellulare potrebbe comprare il nostro carissimo Pietro che salutiamo in regia numero uno perché così ci distrugge le phone non l'ho capita perché questa cattiveria Pietro noi ti vogliamo bene però guarda adesso rinnega tutto aspetta tu non puoi venire qui e dire tutto ciò che vede e che senti troppo tempo siamo stati lontani adesso recuperiamo è santo cielo io ho spiegato siccome il nostro guardate come ridà una parvancia quando parla fa io ho spiegato vedete si rimette dritta con la schiena assume un atteggiamento quasi apostolico di apertura e incomincia a parlare prego spiegavo che il nostro tecnico Pietro Baldassarre è un amante dei telefonini come tanti e che ama sperimentare nuovi telefonini anche per così dire lo sapete perché ride? indovinate un po' andiamo avanti allora la Huawei ridiamo perché appena il rumorino si bilò di Whatsapp attivo si è mai riesto per cacciarti dagli studi di Telefonte te lo giuro faremo uno scoop uno scoop uno scoop uno scoop recuperiamo recuperiamo serietà guardate era troppo tempo che non ristavamo insieme ci siamo tutti riallineati ma ci abbiamo messo pochissimo allora invece importante Huawei che è una marca anche se nella difficoltà di pronunciarlo sta per lanciare dovrebbe uscire ad aprile uno smartphone di bassissimo costo veramente low entry di circa 80 euro e questa è una bella notizia il modello si chiama Ascend Y330 ed è un cellulare fatto apposta per entrare nel mercato low cost quindi nel mercato basso è un cellulare quindi uno smartphone di tutto rispetto Android nella sua versione è la 4.2.2 ha comunque un monitor 800x480 pixel ha un processore abbastanza potente ha uno spazio in memoria di ROM quindi di spazio per salvare le app di 4 giga se non sbaglio però è espandibile fino a 32 giga con un modulo esterno quindi un cellulare che certo non è paragonabile agli ultimi modelli casomai modelli di punta Samsung iPhone o altri però sicuramente per 80 euro è un cellulare che si può comprare e quel cellulare casomai è da farci l'estate che se ci va sopra la sabbia si rompe casomai sono poi più resistenti ma prima idea hai ragione sai perché a volte anche quando si va in vacanza non so può cadere anche in acqua nel mezzo alla sabbia può essere oggetto di furia quindi in effetti no ma vi dico questo non a caso perché stavo leggendo l'altro ieri un articolo un articolo diceva proprio che ci sono ogni italiano fa mediamente ogni persona fa mediamente mi pare 500-600 euro l'anno di danni a strumenti elettronici tra cadute rotture cellulare il mio cellulare tutti quanti elegantemente mi dicono hai la cover col vetro rotto no ho il vetro rotto e non sono l'unico in questa sala quindi che cosa significa significa che tendenzialmente ci cade poi immaginatevi d'estate la sabbia il mare dovunque quindi potrebbe essere anche un'idea certo spesa di 80 euro però sicuramente ha un costo abbordabile consigliabile utilizzabile low cost se si dovesse rompere il vetro tutto sommato poco male abbiamo anche un'istantanea eccola qui che è anche carino da vedere vediamo se riusciamo a zoomarlo un pochino meglio eccola qui non è assolutamente male questo dovrebbe essere il nuovo cellulare guardate 80 euro veramente mi pare un buon muletto e poi soprattutto in 5 colori ci sarà quindi ci si potrà pure divertire vedi un po' l'effetto iphone 5c quando si segue le cover dietro sono un po' più colorate vengono un pochino ridisegnate arrotondate e quando sarebbe disponibile ad aprile potrebbe essere un ottimo regalo di pasqua non molto eccessivo nei costi e comunque si regala un po' di tecnologia anzi se avete il ragazzo il partner o la compagna che non capiscono tanto di tecnologia regalate un bel cellulare un figurone 80 euro l'ha detto lei poi altra cosa invece contestualmente arrivano anche altri modelli arrivano l'apple lo sappiamo non si ferma mai ha fatto proprio tra ieri e l'altro ieri un aggiornamento del suo catalogo prodotti notizie interessanti un po' meno interessanti l'ipad 2 è scomparso definitivamente dal listino prezzi ripeto che secondo me l'ipad 2 è stato uno dei tablet migliori che il mercato abbia mai recepito ovviamente macchina ormai di 3-4 anni è entrato l'ipad retina ma ancora più interessante che sono usciti a meglio dovrebbe uscire in Italia su altri mercati dovrebbe uscire in Italia l'iphone 5c a 8 giga quindi una versione ancora più piccola dell'attuale 16 giga sul mercato e comunque dovrebbe posizionarsi a un costo intorno superiore ai 500 euro certo se pensiamo allo smartphone di prima 80 euro è un iphone 5c comunque di 500 euro insomma ce ne compriamo quasi 6-7 però comunque dovrebbe uscire questo 5c da 8 giga e quindi abbassare ulteriormente i costi invece la notizia un po' più interessante è proprio quella che subito dopo l'estate incominciano i primi rumors nel mercato lo sappiamo Apple ormai è una ditta molto commerciale gioca su questo fatto si parla già di 5 e di iphone 6 quindi il nuovo modello dell'iphone 6 che se andate su internet io ho provato ma non solo volevo cercare alcune immagini ma vediamo se che veramente guardate vedete vi faccio solo vedere una semplice ricerca con la parola però tanto per capire se vedete questo qua sulla destra sarebbe il quarto a destra su internet ci sono disegni futuristici di queste fonzee che non si sa che forma deve avere lunga, quadra rotondata bozzata trasparente chi dice che sarà trasparente chi dice che non sarà trasparente sicuramente è un'ottima mossa di mercato che farà la Apple cioè far filtrare piccole notizie non chiare in maniera che vedrete anche noi qui a prima di tutto alzeremo il tantam su questo strumento che comunque diventa sempre il punto di riferimento dal punto di vista tecnologico però prepariamoci perché qualcuno che ha appena comprato il 5S si troverà tra qualche mese veramente tra qualche mese a dover operare con il nuovo iPhone 6 Serena tu te lo prendi l'iPhone 6? perché no? Serena che stai facendo? allora andiamo avanti andiamo avanti altra notizia invece interessante Facebook io non mi stancherò mai di parlare non tanto di Facebook nel senso che Facebook sicuramente è un punto di riferimento come social network ma soprattutto di come gli utenti utilizzano i social network e in questo caso riporto un altro esempio di Facebook perché vi leggo solo il titolo donna di fama ristorante cinese viene denunciata che cosa è successo? praticamente una signora un'artigiana di 31 anni di Vigevano se non sbaglio va in un ristorante cinese mangia torna a casa incomincia a scrivere in questo ristorante cinese aveva trovato un microchip per cane all'interno di una delle pietanze quindi immaginatevi qual era il messaggio che si era qual era il messaggio? il messaggio era che praticamente avevano cucinato un cane e di conseguenza il microchip era rimasto nella carne teoricamente del cane comunque questa non solo è una bugiarda ma è pure matta voglio dire cioè direi anche articolato il ragionamento comunque cioè trovare il microchip non ho trovato un pelo ho trovato il microchip di un cane dentro addirittura ma in quel caso lì stai stai insinuando che hanno servito carne di cane tra l'altro no no ma il danno è insomma è molto molto grave sotto ogni punto di vista assolutamente ma tant'è che anche questa cosa messa su internet la signora era stata chiesta conferma se si trattava più o meno di una bufala intesa come uno scherzo casomai si poteva soprassedere forse però la signora ha confermato assolutamente ho trovato il microchip fatta la denuncia da parte del ristorante cinese movimentata subito la polizia postale all'interno di questo territorio ha verificato che si trattava di una bufala e vi dico che la signora è stata denunciata per diffamazione aggravata a mezzo internet che non è una sciocchezza credo che sia anche di tipo penale forse non lo so però comunque qualcosa di molto importante questo è sempre il solito messaggio per diffamazione sono reati penali fin quando le persone non riescono ancora a capire che o direttamente o indirettamente o anche raccontando parlando e quindi infamare come si suol dire una persona è un reato penale finché non si capisce questo non risolveremo mai nulla perché un conto è la vernecchia un conto è l'infamia come nel caso della signora perché se scriviamo una sciocchezza anche su Facebook poco male ma quando si diffama che sia a mezzo Facebook che sia a mezzo internet o che sia chiaramente a livello del pur parler la denuncia è immediata e poi il risarcimento dei danni è veramente importante io sottolineo anche questo aspetto perché devo dire anche se ho cambiato completamente carriera la mia tesi di laurea era proprio intitolata ingiuria e diffamazione ecco ah sì che è un momento alto comunque so essere anche seria assolutamente ragione cioè è lo strumento non è che cambia o modifica quello che è il reato è solo un mezzo con il quale viene perpetrato il reato se non sbaglio e attenzione perché tante volte uno veramente ma l'avremmo detto un milione di volte ma di sera di fronte a un monitor del computer nella propria camera nel proprio ufficio studio o casomai sul divano col proprio cellulare o tablet non è che potete dire tutto quello che volete perché sappiate che dall'altra parte voi non lo sapete ma in realtà lo sappiamo tutti ci sono migliaia milioni di persone che ci ascoltano e quando qualcuno mi dice ma io pubblico un commento faccio un esempio sempre per semplificare su facebook ai miei amici che vi dice che quell'amico vi riprende il commento e non ve lo condivide da un'altra parte e quindi il bacino tecnicamente si chiama la portata degli utenti che leggono quel messaggio può diventare tendenzialmente gigantesca mostruosa perché poi la condivisione è una funzione che voi non potete controllare perché quando voi condividi quando qualcuno condivide o meglio quando voi inserite un contenuto e qualcuno lo condivide la condivisione è dall'altra parte e voi non potete fare niente nulla qualcuno mi dice ma io lo dico solo per i miei due o tre amici oppure faccio in modo che non si può condividere questa è un'altra cosa assurda sui social network faccio in modo che non si può condividere basta a volte fare tecnicamente si chiama grabbata cioè copiare nella memoria lo schermo del computer condividere l'immagine dello schermo e quindi condividerne il contenuto quindi anche se qualcuno dice io blocco qualcosa basta che si vede su un monitor da un'altra parte uno pensate che sull'iPad è semplicissimo tasto on e tasto di accensione e tasto home si prende l'immagine in quel momento bloccato sull'iPad anzi se riusciamo riusciamo un attimo a girarlo facciamo una prova in diretta vediamo se si vede la regia Pietro primo o dopo arriva 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 dovrebbe arrivare siamo connessi appena arriva lo faremo vedere deve semplicemente mettere in video ecco ciò che hai tu ecco vi faccio vedete questa flashata bianca non è a caso premendo il tasto di accensione il tasto home quello centrale già l'abbiamo detto la diciamo tutta questo tasto qui che è il tasto di accensione il tasto home insieme stessa cosa vale anche sull'iPhone si prende l'immagine anche sull'iPhone quindi quante cose si imparano con te non commento prendete lo schermo a quel punto questa schermata presa diventa un'immagine la potete cioè la si può condividere come qualsiasi altra sorgente o file e quindi in quel caso lì anche dire non si può condividere è assolutamente ridicolo sotto questo punto di vista insomma usate Facebook per giocare questo è il concetto usate Facebook per giocare condividere si chiamano social immaginatevi che quando scrivete qualcosa è come se lo urlate in piazza e tante persone vi ascoltano forse più che urlare ne parlate ad alta voce in piazza ecco stessa cosa scrivere su un social network buongiorno in una chat privata su un gruppo chiuso di Facebook si può parlare di reato di diffamazione se parlo di qualcuno con uno sfotto? beh qui ci vorrebbe io dico il mio parere secondo me sì perché anche se è un gruppo chiuso comunque c'è una platea c'è un pubblico di persone che legge la diffamazione certo quindi lei è illegale in questo caso io sono loro il supporto ecco però assolutamente sì sì sono d'accordo a meno che però il nostro la nostra telespettatrice ci parlava di uno sfotto se si tratta di uno sfotto lo sfotto forse no però ecco se insomma io credo si offende una persona si sì poi c'è da distinguere il reato assolutamente non è che adesso non posso se io dovessi scrivere certo che Gian Maria non so è proprio un bel ragazzo dai con uno sfotto abbastanza pesante è proprio uno sciocchino ipotizziamo non è che adesso arriva Gian Maria mi denuncia ma non ci sarebbe penso neanche che verrebbe rifiutata proprio come denuncia grande Gian Maria un saluto a te alla stupenda conduttrice Biaggio saluto a Biaggio Gian Maria Sindaco sai che no comunque grazie grazie per la stima no invece è importante capire anche quando c'è il discorso una volta chiesi a una persona ma se siamo in tre io offendo una persona e dall'altra parte c'è uno che ascolta c'è un reato di diffamazione o un reato di ingiuria e dissero sì sì cioè non è che perché ci vogliono cento persone anche in tre possono verificarsi determinati tipi di reati adesso so che l'ingiuria e l'infamazione si distinguono per alcune cose però tecnicamente avviene in parole molto molto semplici si distingue soltanto per il numero delle persone presenti se siamo soltanto io e te si parla di ingiuria se c'è già una terza persona si parla di ingiuria benissimo quindi in un gruppo chiuso basta esserne più di due diventa che poi ricordate un gruppo chiuso io comunque mi farei le mie considerazioni perché anche un gruppo chiuso di due persone io e Serena e ce il diciamo di tutti i colori chi non mi dice che Serena copia e va a mettere quel contenuto da un'altra parte questo è poi il problema tante volte che non sappiamo dall'altra parte che cosa succede aggiungo una cosa rapida tra i ragazzini spesso si scambiano contenuti purtroppo non adatti ad essere scambiati ma io tante volte sento dire vabbè ma è la mia ragazza mica viene contro di me o il mio ragazzo mica viene contro di me sì fino a quando la coppia sta insieme lo sapete quante volte poi ci si lascia e l'altro partner incomincia soprattutto in questi casi più i maschietti incominciano a distribuire una foto particolare o un commento particolare tra gli amici per farsi ganzi perché ormai non è più la sua ragazzina ma guardate che avviene nell'ordine del giorno tra gli adulti ma tra gli adulti ancora di più cioè dall'altra parte non si sanno mai come possono crescere o svilupparsi i rapporti sociali quindi va condiviso quello che è giusto condividere senza esagerare insomma ecco c'è un video bellissimo è come se voi vi fate una foto ai ragazzini uso quando parlo con i ragazzini questo esempio è come se voi vi fate una foto a una vostra cameretta casomai neanche in posizioni particolarmente maliziosi e poi questa foto la mettete a piazza martiri e ognuno che va si stacca una foto e se la riporta a casa si stacca una foto e se la riporta a casa una volta mi disse uno assolutamente no aprimo il suo profilo facebook aveva tante foto in tal senso e disse allora che cosa cambia tra la foto che metto a piazza martiri e la foto che hai sul tuo profilo io adesso questa me la stampo ce la metto io a piazza martiri e la condivido quindi sempre attenzione 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 a quello che si fa sui social bene ci abbiamo diciamo un'altra cosa whatsapp non a casa siamo partiti con whatsapp ritorniamo a whatsapp non a caso perché sappiamo che whatsapp è stato venduto a facebook sappiamo che negli ultimi settimane critiche sulla sicurezza ci sono state abbastanza importanti certo bisogna torniamo sempre al discorso anche whatsapp whatsapp in realtà sono chat private tra gruppi di amici però sappiate che il discorso è lo stesso se lì si condivide una foto io quella foto me la salvo sul mio album fotografico e poi la posso ricondividere dove voglio vero serena mi confermi? perfetto quindi è importante anche qui stare attenti però vi dico perché stavolta la notizia è un pochino più interessante whatsapp che ormai è diventato l'instant messenger di fatto cioè quello con cui andiamo a fare chat tra i nostri gruppi di amici a breve sarà supportato una nuova funzionalità intanto per ricordarci che cosa quale whatsapp eccolo qui lo conosciamo io penso che veramente dopo facebook youtube twitter whatsapp oggi sia diventato lo strumento più conosciuto in ambito soprattutto smartphone informatica si potrà a breve anche telefonare ed è una cosa molto interessante non che oggi non lo si possa fare però se oggi chiamatevi appare sempre un messaggio dicendo che la chiamata potrebbe subire dei costi ma perché? perché avviene una telefonata a seconda tecnologia normale cioè tramite il cellulare come si state chiamando a casa quindi tramite il gsm 3g comunque una telefonata standard pagata che voi pagate al vostro operatore in realtà sta introducendo una tecnologia si chiama tecnologia VoIP senza entrare troppo nel tecnico è una tecnologia che ci permette di telefonare utilizzando la rete internet la rete dati e quindi tendenzialmente significa poter telefonare abbattendo i costi o quasi annullandoli a meno dei costi di trasferimento dei dati quindi a breve e spero veramente a breve perché sarà una grande rivoluzione su whatsapp non solo si potrà messaggiare ma si potrà anche telefonare e speriamo a breve anche videoconferenzare ecco tuttavia Gian Maria pensavo se il costo per così dire va a riversarsi sulla connessione dati connessione dati vuol dire anche che dobbiamo avere i sufficienti giga per poter assolutamente infatti stanno ottimizzando molto la tecnologia perché ovvio mandare un messaggio guardate non ho 0,000 in quanto lo spazio è minimo la tecnologia VoIP comunque la tecnologia audio in questo caso occupa molto di più in termini di spazio rispetto al messaggio testuale però stanno ottimizzando fortemente in modo da poter venire incontro anche a chi ha un giga due giga tre giga mese da utilizzare e non in qualche maniera esaurirli la banda e questo è vero una buona notizia per gli utenti credo tuttavia che per le compagnie telefoniche non sia una grande notizia facciamo un esempio pratico se io sono a casa con la mia DSL posso telefonare praticamente a costo zero perché la DSL la pagate a casa e tranquillamente potete utilizzare Whatsapp per chiamare casomai per fare io già immagino che la telefonata VoIP è solo un inizio perché a distanza di qualche altro mese noi siamo in quattro in chat siamo io e Serena e una terza persona possiamo fare invece una conference call cioè una conferenza di telefonica tra noi tre Whatsapp ci gestirà tutto soprattutto a costo zero che è una grandissima rivoluzione ah ma è sicuramente quindi aspettiamo il VoIP su Whatsapp così Serena il VoIP su Whatsapp sembrava cosa no? il VoIP su Whatsapp per farci molto Web 2.3.0 così anche a Serena il dito un pochino si riposa perché proprio fa gli esercizi vg e scienze sto scherzando è vero e vero lo sapete che la prendo di mira ma solo tanto affetto vabbè insomma queste sono le prossime novità senti ma per quanto riguarda Pasqua che si sta iniziando ad avvicinare ma giustamente ci si deve organizzare per tempo tu cosa proponi da un punto di vista anche di viaggi del modo in cui organizzarsi io ho sempre i miei siti su cui vado anche se il sogno della mia vita io un giorno lo farò è andare veramente con una valigia all'aeroporto vedere il primo volo il cui nome mi piace andare lì dove si va voglio un biglietto questo è il sogno della mia vita prima o dopo lo farò almeno per portare in valigia tuttavia vedete quanto è brutto perciò ho detto il sogno della mia vita non della mia vita con il mio partner perché perché una donna giustamente la prima cosa che ti dice ci vogliono i tac guarda vi dovrei raccontare un'esperienza che ha avuto e vi dico solo phone e tacchi a spillo chi è dall'altro capo sicuramente avrà capito le donne giustamente si preoccupano cosa mi devo mettere cosa non mi devo noi maschietti siamo un pochino meno curanti quindi se pensate uno zaino una valigetta e si parte pensavo alla tipologia del vestiario è un conto che vai all'Hawai o un conto che vai non so in Svezia in Svezia ti compri un maglione in più all'Hawai ti togli una camicia in meno io i tacchi non li porterai in vacanza devo star comoda questi punti di vista se la vedete in giro vi prego mandatemi delle foto su Facebook le pubblichiamo guarda in vacanza non mi possono vedere perché penso di non andarci senza esagerazione qualcosa tipo 14 anni anche questo è vero una cosa interessante lo pensavo l'altro giorno che insomma mi muovevo in giro per l'Italia che ci siamo un pochino persi o meglio quando ero più ragazzino ti ricordi uno andava all'agenzia fermava il treno poi per l'hotel dove ero tramite l'agenzia viaggi non vi dirò nulla di nuovo però mi è piaciuto proprio come mi sono coordinato invece qualche mese fa ho dovuto fare un po' di giri in Nord Italia l'ultimo momento queste 3-4 giornate tra l'altro per promuovere il libro e a un certo punto allora il treno l'ho prenotato mezz'ora prima mentre stavo sul treno ero indeciso se fermarmi a Milano o a Torino a dormire perché dipendeva da cosa volevo fare quella sera allora tramite Whatsapp ho mandato un messaggio a due gruppi Milano-Torino dicendo ragazzi voi che fate stasera i ragazzi di Torino quella sera non si muovono i ragazzi di Milano andavano a fare un aperitivo allora il treno sono sceso a Milano mentre però stavo scendendo tramite Booking.com l'app ho prenotato l'hotel lì vicino in maniera che poi la mattina potevo ripartire per Torino e mi sono coordinato con alcuni amici che non vedevo da un paio d'anni siamo andati a fare un aperitivo quindi questa è la tecnologia che oggi permette essere sempre connessi aggiornarci in tempo reale fare delle prenotazioni tramite carte di credito ma semplicemente andavi 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 cosa che fino a 3-4 anni fa era impossibile che tu tu Gian Maria non fossi appunto così tecnologico e che ancora magari ti dovessi recare l'agenzia di viaggio e quant'altro magari una persona meno avvezza avrebbe questa necessità ma tu insomma vabbè che offesa velata comunque no assolutamente sto facendo un complimento comunque è il consiglio che do sempre io andare sui siti ci sono siti tipo Expedia non esco oggi anche Booking offre degli ottimi pacchetti perché ora per il periodo tra l'altro Pasqua anzi Pasqua 25 aprile e primo maggio che si incastrano tutta una serie di ponti e ponticelli andate perché secondo me ci saranno tante offerte low cost se poi avete invece di fare il last minute fate aspettate un pochino proprio l'ultimo più del last minute il second adesso non mi viene il second minute chiamò così c'è un altro nome ma non mi viene in mente ma sì trovate prezzi ancora più bassi ancora più bassi e tra questi siti ovviamente vi consiglio sempre poi di andare su TripAdvisor a verificare la qualità dell'hotel ricordate che due più accreditati sono Booking.com che è sicuramente ancora più certificato di TripAdvisor in quanto permette la votazione solo a chi è già andato nell'hotel e comunque però TripAdvisor dà una buona indicazione in tal senso utilizzate questi due strumenti per valutarli Booking Expedia e altri siti ce ne sono tantissimi per valutare una vacanza breve di 3, 4, 5 giorni aspettate l'ultimo momento perché i prezzi scenderanno ancora e casomai veramente con 300, 400 euro si può fare un bel giro in Europa volo compreso e non ci dispiare forse anche a di meno però volo compreso ad esempio Barcellona visto che 250 euro si vanno da Barcellona andate e ritorno in aereo poi l'aereo non so che aereo è però speriamo non sia quello del film di Pantozzi insomma in condizioni la hostess e Serena spiritosa per i tagli di tempo si fa la tratta Roma in Barcellona sicuramente va bene Gian Maria grazie grazie a te Serena grazie al pubblico che ci ascolta e adesso linea alla regia ci ritroviamo tra pochissimo con altri ospiti nuovamente insieme in compagnia di altri ospiti saluto e ringrazio per la loro presenza qui studio a Teleponte il consigliere provinciale del nuovo centrodestra Luca Corona benvenuto ben tornato prima di tutto e saluto Giancarlo De Santis segretario regionale di Filca Cisle benvenuto buongiorno anche a lui tra poco ci sarà appunto modo di vedere entrambi gli ospiti allora Luca Corona parleremo soprattutto di politica perché chiaramente come tutti ben sanno la provincia alle ore contate come si suol dire quindi anche volendo sarebbe praticamente impossibile ricandidarsi anche se ci sono delle novità poi ne parliamo bene benissimo comunque la candidatura di Luca Corona è per il comune di Teramo si ufficiale quindi mi candido con il nuovo centrodestra quindi ho facilito oggi per la prima volta a Teleponte quindi benissimo speriamo che vada bene siamo ben lieti di avere appunto un'ufficializzazione qualunque essa sia una sorta di battesimo quindi in bocca al lupo tra poco torneremo a parlare abbondantemente con Luca Corona ma ci dedichiamo adesso a Giancarlo De Santis segretario regionale di Filca Cisle insomma sembrerebbe che qualcosa in futuro possa migliorare ma attualmente i dati che riguardano le imprese in Abruzzo e in provincia di Teramo non sono certo diciamo così incoraggianti no assolutamente se noi ascoltiamo alcuni dati provisionali in tv pensiamo che stiamo uscendo dalla crisi che tutti i dati cominciano a dare dei segni positivi in realtà l'edilizia che è lo specchio diciamo della nostra economia sia territoriale che nazionale non risponde a questi canoni anche per il 2013 i dati sono negativi ormai è un trend che portiamo avanti dal 2008 e che hanno portato di fatto il settore delle costruzioni in provincia di Teramo a scendere sotto del 50% rispetto a imprese iscritte lavoratori addetti ore lavorate e massa salario ossia proprio la fonte economica del settore stesso quindi di fatto in edilizia non si smuove niente ma non c'è neanche bisogno di snocciolare i dati parliamo di diminuzioni rispetto all'anno scorso a due cifre dal 10 al 15% per ogni valore ma basta andare in giro e ci si accorge che non ci sono più quella miriade di gru per ogni cantiere quelle ristrutturazioni in giro per le abitazioni quei rifacimenti di muri strade ponti che c'erano prima in realtà l'edilizia nel Teramano è ferma e l'Aquilano su cui noi speravamo nella ricostruzione non ha dato per niente a Teramo quello sbocco che ci immaginavamo potesse ritirare su il settore nel nostro territorio e quindi di fatto i dati sono fortemente negativi considerando che dall'edilizia partono poi tutti i settori connessi perché è connesso all'edilizia spieghiamo anche questo discorso così anche gli amici a casa possono capire perché è tanto importante che riparta l'edilizia diciamo che l'edilizia più che edilizia si chiama settore delle costruzioni proprio perché è annesso al settore stesso tutta la costruzione per cui se viene fatta una casa ci si comprano i mobili ci si fanno gli impianti idraulici termici ci si porta il calcestruzzo ci si porta la sabbia quindi tutte le aziende del legno della terizia e manufatti del mobile per l'arredo dell'impiantistica dei sanitari è legata alla costruzione della casa laddove la casa non si costruisce e o non si vende più visto che ormai il mercato è saturo di conseguenza col fermo dell'edilizia a cascata si fermano tutti gli altri settori e poi è chiaro che l'idraulico l'elettricista ad esempio che non lavorano non possono acquistare non possono non so comprare quel maglione in più quindi si ferma poi tutta l'economia insomma è un vortice è la piccola economia nel senso che l'edilizia rappresenta la piccola economia cioè quella immediata che porta immediatamente valore aggiunto all'economia stessa non parliamo delle grandi opere le grandi opere da quando vengono pensate da quando vengono realizzate ci vogliono decenni noi parliamo dell'edilizia nostra l'edilizia locale l'edilizia che nel giro di pochi mesi diventa PIL e da lì parte poi tutto il risvolto dell'economia soprattutto territoriale perché poi questo tipo di edilizia dà lavoro all'economia locale non all'economia extra regionale o internazionale ecco perché l'edilizia è così importante certo l'edilizia è lo specchio della crisi l'edilizia è stato l'ultimo settore ad entrare in crisi e dovrebbe essere dovrà essere per forza di cose il primo ad uscirne indubbiamente se noi guardiamo anche altri dati relativi all'edilizia come per esempio gli insoluti ossia le imprese che non sono in regola con i pagamenti per esempio della Cassedile vediamo che di pari passi in questi 5 anni con l'aumentare della crisi sono aumentati gli insoluti noi siamo arrivati quasi a 5 milioni di euro di insoluti cioè imprese che non pagano regolarmente i contributi ai lavoratori in Cassedile siamo arrivati ormai a oltre 220 vertenze all'anno nel settore dell'edilizia quindi più di una al giorno perché le imprese non hanno più liquidità per poter pagare ciò che devono pagare quindi questi sono i valori della crisi valori spaventosi presi così dal punto di vista numerico valori che avrebbero dovuto e ci hanno fatto in un certo senso ragionare su come uscire da questa crisi ecco e allora abbiamo appunto fatto un po' il punto della situazione non di certo Rosia tutt'altro ma forse c'è uno spiraglio beh gli spiragli ce ne sono tanti diciamo che il cambiamento dipende sempre dalle persone le persone sono all'inizio nel percorso e alla fine di ogni tipo di cambiamento per cui il cambiamento avviene solo se le persone ne sono convinte e si impegnano per farlo noi abbiamo uno strumento unico perché non ci sono altri settori che hanno questi strumenti noi abbiamo gli enti bilaterali abbiamo la Cassedile la Scuoledile e il Comitato Paritetico della Sicurezza che sono enti bilaterali al servizio del settore noi in questi cinque anni di crisi ma soprattutto negli ultimi tre abbiamo investito tutte le nostre risorse residue quelle accumulate nel corso degli anni tra virgolette buoni dell'edilizia ricordiamo che l'edilizia ha avuto un trend per otto anni in crescita storicamente non è mai accaduto una cosa del genere come non è accaduto poi questo trend così lungo di decrescita e quelle risorse sono state investite per migliorare che cosa? il settore stesso in ambito di formazione e sicurezza tant'è che noi solo nell'ultimo anno abbiamo riqualificato circa 900 lavoratori gratuitamente e abbiamo messo a disposizione delle imprese per quei pochi cantieri che ci sono un tecnico della sicurezza e gli RLST provinciali che sono delle figure della sicurezza una dalla parte dei lavoratori una dalla parte delle imprese che vanno in giro nei cantieri gratuitamente e offrono le loro consulenze sulla sicurezza alle imprese il tecnico della sicurezza consulenze tecniche alle imprese gli RLST i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di formazione informazione e condivisione delle problematiche sulla sicurezza ai lavoratori queste due figure sono previste dalla legge e noi riusciamo a darle a mettere a disposizione del settore gratuitamente queste cose cosa hanno portato? Hanno portato ad una crescita nonostante la crisi della professionalità delle imprese e dei lavoratori di queste imprese e ad una diminuzione più che proporzionale rispetto ai numeri della crisi e della diminuzione di infortuni noi siamo scesi nell'ultimo anno del 46% come fenomeni infortunistici a questo mi perdoni Santis perché accade? perché ci sono meno lavoratori e quindi meno possibilità in termini numerici di subire un rischio anche però se abbiamo un calo di lavoratori del 16% e un calo di infortuni del 46% vuol dire che abbiamo non perfettamente un 30% di differenza rispetto al calo ma abbiamo un buon 15-20% di calo reale degli infortuni certo essendoci poco lavoro la possibilità che l'infortunio accada è notevolmente diminuita avremo la riprova quando il settore riprenderà a pieno ritmo però gli investimenti che abbiamo fatto in sicurezza probabilmente hanno inciso moltissimo su questo calo in realtà quello che noi pensiamo è che adesso dovrebbe cominciare la seconda fase per ciò che riguarda gli enti formativi cioè la formazione per quella che è la nuova edilizia il futuro dell'edilizia non è più il classico lavoro pubblico o la costruzione di abitazioni per viverci dentro visto che ormai il 70% degli italiani il 73% degli italiani ha la casa di proprietà la nuova edilizia è sia nel pubblico che nel privato la ristrutturazione il recupero tant'è che noi adesso come Scuole Dile lanceremo tutta una serie di progetti di percorsi formativi per insegnare alle aziende e ai lavoratori a essere leader in questo campo ecco lei sta dicendo una cosa molto interessante che credo possa interessare anche a molti lavoratori che ci seguono da casa magari i lavoratori in attesa di poter tornare a lavorare probabilmente visto che insomma prima o poi dovrà tornare il sereno ecco non può sempre piovere per così dire no? forse un modo per riuscire anche a trovare facilmente relativamente parlando il lavoro potrebbe anche essere quello di approfittare di questo periodo di stasi per formarsi per avere più competenze e quindi sicuramente essere l'avanguardia e rispettare tutti i canoni che cerca il datore di lavoro è fondamentale in questo periodo una cosa del genere ripeto la nuova edilizia sarà molto diversa dalla vecchia edilizia e su quei lavori dovremmo investire per cui tutti i lavoratori che in questo momento hanno perso il lavoro e quindi sono a casa devono approfittare di percorsi formativi che anche la scuola edile mette a disposizione di ogni singolo lavoratore per imparare qualcosa di nuovo e lì è uno dei due sbocchi per la ripresa del settore noi abbiamo a disposizione ormai due anni sgravi fiscali per ristrutturazioni ed efficientemente energetico in giro per l'Italia questi due sgravi hanno portato un incremento del valore economico dell'edilizia di circa 13 miliardi in provincia di Teramo questa cosa ancora non prende piede e non capiamo il perché probabilmente è un problema culturale siamo abituati a fare case e non a sistemare quello che è il patrimonio urbanistico ormai quarantennale del nostro territorio abbiamo un unico problema dovremmo riuscire come associazioni dei lavoratori e delle imprese a fare un accordo con gli istituti finanziari affinché finanzino quei privati che hanno intenzione di ristrutturare la propria casa perché è vero che ci sono gli sgravi del 50% ma è anche vero che nessuno di noi ha probabilmente quelle 10, 15, 20 mila 30 mila euro a disposizione per poter ristrutturare la casa come si faceva quando si acquistava l'abitazione entravi in cantiere parlavi col titolare il quale addirittura ti dava la possibilità persino di avere il notaio a disposizione non solo la banca che ti dava oltre al 100% del finanziamento esatto manca quello benissimo comunque insomma possiamo per così dire essere leggermente ottimisti sì basta impegnarsi il pessimismo non aiuta mai bisogna essere di natura ottimisti però insomma forse ci sono dei motivi concreti per cui davvero poter credere ad una ripresa sì considera Serena che noi dobbiamo cambiare la parola nell'ambito dell'appalto pubblico per esempio da finanziamento a investimento ora finora tutte le risorse che ci sono venute dal pubblico erano investimenti per fare la piazza finanziamenti per fare la piazza finanziamenti per fare la scuola noi secondo me dobbiamo cominciare ad abituare a parlare di investimenti perché se noi facciamo un investimento sull'efficientamento energetico delle scuole risparmiamo energia elettrica per le scuole energia per il riscaldamento se facciamo un investimento per la sistemazione degli alve e dei fiumi noi risparmiamo soldi quando pioverà tantissimo e il fiume esonderà quindi sono investimenti se noi non cominciamo a fare investimenti continueremo a buttare una marea di risorse a pioggia quando ci sono gli eventi e non riusciremo mai a dare una strutturalità agli investimenti stessi ecco cos'è che deve cambiare nel pubblico ed ecco perché dicevo ieri le iniziative di questo nuovo governo sugli investimenti per le scuole e sugli investimenti per il ripristino del territorio quindi il disesto il cosiddetto disesto idrogeologico sono il percorso giusto perché sono piccole opere immediatamente canterabili e che ci permettono di investire nel futuro del nostro territorio e delle nostre scuole con questa logica si potrebbero fare strade ponti asfalti si potrebbe fare qualunque cosa e anche sottopassi vero Luca Corona giustamente l'argomento è molto interessante ha perfettamente ragione quando si parla di investimenti perché è proprio la strada giusta per risolvere alcuni problemi non bisogna parlare però l'investimento è veramente la parola giusta questo governo speriamo che lo attui lo vediamo con il progetto che ha sulle scuole quindi investire queste risorse pubbliche speriamo speriamo davvero che insomma qualcosa possa cambiare allora io ringrazio di cuore Giancarlo De Santis so che è un impegno e quindi deve scappare quindi posso immaginare che poi in questo periodo di incontri e di problematiche da affrontare ce ne siano molto più del normale quindi grazie di cuore speriamo che la prossima volta ecco che ci vedremo in una trasmissione potremo parlare di una ripresa di un segno speriamo di ottime opportunità per lavoratori e imprese grazie ancora grazie buona giornata altrettanto grazie allora Luca Corona dicevamo importante investire come spiegava giustamente Giancarlo De Santis e forse un investimento arriverà più importante rispetto al passato giusto per restare un attimo in tema sì parliamo dell'investimento del famoso sottopasso da realizzare a Villa Pavone abbiamo saputo che l'importo è superiore si parlava prima di 2 milioni e mezzo adesso di 5 milioni di euro è un investimento importante nell'intero quartiere è stato approvato il progetto definitivo presentato anche dall'amministrazione comunale e dal sindaco Brucchi c'è stato questo interessamento forte anche dall'assessore Morra per quanto riguarda i trasporti siamo felici di questa notizia alla luce dei sondaggi che hanno fatto sui terreni quindi la cosa diciamo va in porto e stanno adesso facendo tutte le procedure per poi andare in gara quindi veramente una bella notizia che mette in sicurezza l'intera zona che ricordo che 30 anni per 30 anni ha avuto questo questo problema io più volte ho solicitato sia l'assessore regionale sia l'assessore e il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi per andare spediti per la progettazione per la gara d'appalto la progettazione come in questo caso è andata spedita e poi per la gara d'appalto perché la zona veramente ha necessità di quest'opera perché vediamo che anche nelle ultime settimane ci sono stati degli incidenti e quindi speriamo che tutto proceda bene e nei tempi stretti quindi ecco comunque se sono cominciati già questi lavori via leguamento e quant'altro per poi procedere a bando insomma più o meno sì anche perché le ferrovie hanno dato dei tempi strettissimi perché le ferrovie in questo caso diciamo è quella che ci rimette di più perché ogni volta delle rotture deve partire una squadra da Pescara quindi stanno spendendo parecchi euro quindi ha tutto interesse le ferrovie per accelerare i tempi l'unico neo diciamo di quest'opera è che vengono chiusi tutti e quattro i passaggi a livello perché le ferrovie ha dato questo vincolo perché non hanno più la manutenzione sul tratto e investono quindi sul progetto e questo cosa vuol dire poi in termini pratici? pratici che porta lì c'è un'attività commerciale adesso c'è il bar c'è varie attività il mercatino dell'usato loro dicono che possono perdere dei clienti soprattutto il bar perché il bar è un esercizio di passaggio quindi possono avere un calo quindi anche per me è ancora da verificare questo calo però chiudendo tutti questi sottopassi come si riesce poi a raggiungere tutta la zona per l'appunto di Villa Paolo? praticamente hanno le ferrovie e in questo caso hanno realizzato un progetto importante con una rotatoria sotterranea quindi con quattro corsie due sottopassi però loro hanno garantito il passaggio pedonale su tre adesso attuali passaggi a livello quindi al mio modo di vedere anche quello delle ferrovie non ci sono problemi per quanto riguarda la viabilità ricordo che i cittadini residenti anche soprattutto gli artigiani sono favorevoli a questo progetto l'unico problema è quello che hanno le attività commerciali al ridosso della statale 80 perché possono avere un calo per i loro introiti stiamo vedendo mi sto occupando anche di questa cosa di vedere se c'è una soluzione per quanto riguarda il bar di spostarlo al ridosso dove viene la rotatoria oppure nelle vicinanze della zona di passaggio del cimitero anche perché il cimitero lì è sprovvisto di un bar non c'è niente in quella zona vediamo che cosa si può fare insieme all'amministrazione comunale col sindaco ne voglio parlare direttamente con lui perché queste persone questi che hanno queste attività mi hanno sollicitato di un incontro con il sindaco per esporgli questo problema benissimo e sicuramente Luca Corona potrà fare tantissimo non solo per questi cittadini ma anche per i cittadini terramani se dovesse essere eletto appunto nelle fila del centro-destra intanto c'è un sms Luca essendo un ragazzo giovane sei uno dei migliori sono lieto di votarti ecco appunto lo abbiamo detto poc'anzi un ragazzo serio sempre presente sul territorio vicino alla gente e vedrai che alle prossime elezioni farà il pieno di voti beh mi sembrano messaggi incoraggianti Luca Corona un ragazzo che nel quartiere riesce a confluire consenso sia da destra che sinistra perché mette sempre l'interesse comune al centro delle proprie battaglie questo è vero mi sono speso molto per l'intero quartiere ma non solo vediamo anche in provincia questo potrebbe essere lo slogan di Luca Corona una faccia nuova in politica per un impegno serio e costante sul territorio mi suona da slogan da mettere sul manifesto sul è una buona idea sul santino elettorale perché no comunque scherzi a parte la verità è questa e cioè che giustamente oggi Luca Corona ha ufficializzato proprio nella nostra trasmissione questa candidatura quindi dicevamo ci si prova con la speranza posso immaginare che vinca il sindaco Maurizio Brucchi speriamo io credo che il sindaco Maurizio Brucchi si riconfermi perché anche lui è una persona che sta sempre sul territorio ci mette ogni giorno la faccia come del resto io e questa mia candidatura è venuta diciamo dal basso perché molti residenti ma molti cittadini terramani mi hanno chiesto visto l'esito delle province quindi che per come stanno adesso le cose sono destinate a sparire la mia candidatura al comune di Teramo io ufficializzo oggi la mia candidatura con il nuovo centrodestra perché credo in quel partito anche per l'appoggio che ha avuto in questo nuovo governo con Alfano credo nelle sue diciamo idee quindi sono ben lieto di candidarmi con il nuovo centrodestra tra l'altro sede elettorale anche in arrivo sì ho deciso di aprire come cinque anni fa quando mi sono candidato in provincia la sede elettorale l'aprirò a collaterrato a collaterrato perché dove risiedo quindi dove ho avuto un buon contatto anche con la con la gente del quartiere sono ben lieto di aprirla lì quindi speriamo che vada tutta bene quindi ma sì sicuramente del resto poi le cose vanno come devono andare la politica è sempre un po' un interno all'otto però l'importante è crederci l'importante è lavorare e credo che se anche non dovesse riuscire Luca Corona credo ma non credo di sbagliarmi che proseguirebbe comunque ad aiutare insomma per quanto può nelle sue possibilità tutti i residenzi della zona e non solo sì anche perché io ricordo che vengo dal comitato di quartiere dove ero prima segretario poi presidente quindi mi sono battuto sempre per diciamo per i problemi dell'intero quartiere ho operato anche bene in provincia con parecchie iniziative vari problemi per capirci adesso sono stati finanziati per i fondi dell'alluvione la strada SP18 che collega con l'atterrato a Varano il collegio poi dove sono stato eletto sono 350 mila euro stanno finendo i progetti quindi a breve inizieranno anche lì i lavori per la sistemazione di quella strada è stato anche merito mio questo progetto quindi io metto sempre l'interesse pubblico avanti rispetto come in politica accade diciamo ultimamente bo meno quindi sono sono contento e andiamo avanti sono fiducioso anche perché le persone mi spingono a questa candidatura e quindi sono e poi vada come vada giustamente non si può certamente far ciò che non si può fare eventualmente sì infatti io sono una persona che non ho cambiato un po' modo di fare politica ma un'idea diversa di fare politica cioè di non fare le promesse anche sotto campagna elettorale che sto iniziando di non promettere perché le promesse poi stanno a zero quindi anche perché diciamo la verità le promesse fatte in questo periodo ci hanno sì ci hanno vita breve quindi non sono per le promesse ma sono per le cose che poi si vanno a realizzare bene concretezza la concretezza fondamentale a proposito di concretezza ci sono buone notizie per quanto riguarda degli edifici Ater è corretto? ecco l'atterrato c'è questa problematica degli edifici Ater per la copertura in amianto di questi edifici c'è stato un esposto di Vivi Città dove io ho appoggiato questa iniziativa di Olivieri ci sono buone novità ci sono un milione e mezzo per lo smantellamento di queste Eternit in queste case popolari ma non solo c'è anche diciamo il rifacimento degli impianti il cappotto termico gli impianti elettrici e idraulici e la messa in sicurezza di queste palazzine quindi un'altra buona notizia per il quartiere ci sono altre buone notizie per quanto riguarda l'intero comprensorio anche a Collatterrato la chiesa nuova si è aperta la farmacia si farà una piazza nuova a che punto è? la chiesa stanno finendo delle varie procedure hanno aperto diciamo recintato per il cantiere a breve vedremo questi nuovi lavori io non sono uno che bacchetta spesso e volentieri il discorso della recinzione senza poi vedere però l'inizio dei lavori non dipende assolutamente da io credo che molte volte quando si rallentano dei progetti oppure non vanno avanti è perché c'è molta burocrazia in Italia quindi succede che per esempio adesso si dovrà realizzare il polo scolastico lì a Contrada San Benedetto c'è la nuova scuola e quindi sono stati bloccati perché sono stati trovati dei reperti e quindi perché lì ci sono dei reperti storici e sono stati bloccati i lavori quindi molte volte ci sono da mettere in campo queste e in conto queste interruzioni da parte non volute per la progettazione per altri fattori adesso io non sono uno che dà delle date o meno sa cantiere speriamo che si sblocchi in tempi brevi e quindi però è già qualcosa che si muove all'interno del quartiere perché ricordiamo che il terroquartiere in questi anni sono stati un po' abbandonati soprattutto le frazioni perché io vengo da una frazione da un quartiere quindi speriamo che questa nuova amministrazione che sia di centrodestra o di centrosinistra sia adoperi di più sull'intero comprensori sulle frazioni in chiusura visto che sono veramente gli ultimi giorni in cui per fortuna si può ancora parlare liberamente poi scatterà la parcondicio a quel punto insomma di queste domande anche un po' se vogliamo piccanti non se ne potranno porre come che area si respira in questa campagna elettorale insomma come si stanno muovendo i candidati sindaci una piccola previsione fermo restando che sono sicura che la previsione va da un lato è chiaro guardi Maurizio Brucchi a mio modo di vedere farà una campagna elettorale a viso aperto perché vediamo in alcuni temi il tema fondamentale che era del comune di Teramo era quello del traffico è stato risolto la messa in sicurezza di alcune scuole degli edifici scolastici c'è una bella campagna elettorale io vedo anche sulla mia sulla mia persona non ho difficoltà ad incontrare le persone perché le persone hanno capito la serietà di chi vuole veramente fare del bene dell'intero comune il sbaglio sta sviando un po' nel senso che no ci sono parecchi candidati sindaci quindi la campagna elettorale sarà molto aperta ecco di questi candidati sindaci che idea sono tutte persone valide quindi vediamo anche persone giovanissime come il candidato 5 stelle che ha 23 anni io sono per un rinnovamento della politica quindi non sono quella persona che dice no è troppo giovane ognuno è libero di candidarsi io sono anche una persona molto giovane con le idee molte diverse rispetto alla vecchia politica anche in provincia ho dato delle idee diverse rispetto a com'era l'apparato provincia molte volte le cose si possono realizzare e vediamo che molte volte no però l'importante è provarci essere seri durante questa campagna elettorale e fare la politica in maniera seria e senza interessi personali una cosa è certa sarà una campagna elettorale vivace e frezzante perché a differenza delle precedenti due tre tornate elettorali che hanno interessato il comune di Teramo dove c'erano praticamente soltanto due candidati sindaci adesso ce ne sono diversi e sicuramente comunque vada sarà una campagna elettorale sono contento di questo perché ci sarà argomenti e temi da affrontare di questa città e quindi anche perché si sono mossi anche le altre parti politiche rispetto agli altri anni dove il centro-destra diciamo si muoveva prima rispetto agli altri candidati ne sono cinque sono tutte persone valide quindi vedremo chi la spunterà io sono sempre del parere che il sindaco Maurizio Brucchi ha lavorato bene quindi sono fiducioso che si riconfermi nuovamente e speriamo con me consigliere allora ma quando aprirai la sede elettorale? allora l'aprirò domenica 30 alle ore 18 e 30 in via Pilotti a Collatterato Basso al numero 9 civico numero a Porchetta? no no a Porchetta evitiamo di farle solo temi importanti infatti adesso di meno quindi un buffet un buffet sì 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 l'importante è avere dei temi importanti da illustrare alle persone certo nuovo centro-destra Forza Italia stesso ministrone anche a Teramo tipiche minoranze che separano le campagne elettorali per poi riunirsi io sono del nuovo centro-destra anche perché io sono rimasto sempre diciamo unito all'onorevole Paolo Tancredi ho fatto la scelta condivisa anche con la sua scelta quindi sono rimasto sempre dove stavo per me è il coordinatore che avevo prima in diciamo il PDL e adesso è il nuovo centro-destra quindi allora prime richieste ad un candidato consigliere o assessore insomma buongiorno ragazzo giovane che sicuramente conosce lo stato in cui versa la piscina comunale è possibile non si possa far nulla per dare luce alla struttura che è versa in condizioni pessime perché è sempre in mano gestita dalle stesse persone non si può fare un bando per aiutare i giovani ad inserirsi grazie questo è un tema molto importante ha ragione quando dice bisogna incentivare i giovani alla gestione degli impianti sportivi io non conosco la tematica perché io sono un amministratore provinciale quindi non so bene i temi del comune però se nel caso in cui sarò eletto bisogna cambiare dei sistemi che attualmente sono un po' sbagliati quindi sono per dare la gestione anche della gestione pubblica ai privati anche giovani quindi perché adesso il pubblico non riesce più a mantenere gli impianti sportivi quindi darla in gestione a delle associazioni a dei comitati di quartiere che faranno il bene di quella di quel bene che alla fine ha il quartiere quindi sono contento per questa nuova gestione insomma già un impegno c'è quello della piscina comunale eventualmente questa sarà soltanto una delle tante richieste che giustamente i cittadini terramani porgeranno nei confronti ci sono parecchi problemi nella città come vediamo negli ultimi tempi anche quella di buttare rifiuti per strada io ho solicitato più volte ho fatto ripulire tramite la Team alcuni luoghi alcuni siti che sono sempre gli stessi diciamo io ho solicitato dicendo anche una mia idea di mettere le telecamere perché posizionando le telecamere si riesce proprio a vedere chi butta queste queste staremo a vedere le telecamere del resto dovevano essere posizionate anche in centro storico a termine non ancora si vedono al posto dei Varchi se ne parla da due anni più o meno e perlomeno ancora ci sono le classiche fioriere quindi insomma le telecamere servono ma a quanto pare sono ben lontane di telecamere io ne vedo solo a quel punto ci sono molte difficoltà noi lo vediamo anche in provincia quindi difficoltà economiche quindi abbiamo subito parecchi tagli anche in provincia quindi parecchie cose che avevamo in programma non siamo riusciti a realizzarli perché ci sono questi tagli e quindi per la questione economica molte cose poi non è difficile amministrare guarda io vedo che il sindaco non è che non vuole realizzare determinate cose ma ha subito parecchi tagli da parte dello Stato per essere come un padre di famiglia che vorrebbe portare a tavola ogni giorno carne non so champagne e quant'altro ma magari deve accontentarsi di poco oppure di far sazzare io dico solo di realizzare le cose necessarie e di vedere nei quartieri infatti io dico sempre di dare delle priorità quindi il comitato di quartiere è fondamentale perché fa sintesi sul territorio quindi queste giunte itinerari che fa il comune di Teramo sono giunte valide sono d'accordo con questa iniziativa che ha fatto il comune di Teramo perché è il comitato che fa la sintesi sul territorio quindi dà la priorità rispetto ad altre cose che poi alla fine non servono all'interno del quartiere benissimo grazie grazie al consigliere provinciale per poco ma ufficialmente candidato consigliere comunale a Teramo Luca Corone bocca al uovo per tutto grazie e buona campagna elettorale a questo punto buongiorno a tutte grazie grazie a voi per essere stati con noi con prima di tutto ci vediamo giovedì mattina con Gustavo Bruno naturalmente poi nella giornata odierna appuntamento alle 12.30 non vi perdete questa puntata perché chissà che anticipiamo in qualche modo la puntata di prima di tutto di giovedì seguiteci mi raccomando arrivederci buona giornata grazie a tutti